Vabbè, vabbè, che poi alla fine, voglio dire, le rune sbagliate Adesso non è che devo giocare ogni game con aeri Possiamo giocare tranquillamente anche questo Conqueror Che in un game in cui dovremmo andare a blu tranquillamente Il mental è già gone, è andato guys, è andato Cioè, nemmeno ho iniziato Nemmeno ho iniziato già, già è finita, già è finita Se tilti anche leggendo il documento non funziona Mental gone ancora prima di iniziare Allora, fammi vedere la draft che dobbiamo capire Cosa dobbiamo fare, vabbè, abbiamo Samira e abbiamo lì Non dobbiamo giocare bot, sembra molto, molto easy il game plan qua Quindi cerchiamo di giocare bot, cerchiamo di prendere i draghi Fammi spostare sto cavo che mi filta Allora, 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 allora Beh, come state comunque? Buondì Cosa mi raccontate di bello? Nine Tails, quindi la signorina Menari Caspita, pure l'icona, guarda che roba Questa è Kindred Porcellina Oh, 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 oh C'è Atrox che mi picchia? Speriamo di no E lo vorrei... Oh fuck, lo volevo vittare ma non ce l'ho fatta Non ci siamo mai riusciti a prendere la ward E... capiamo ragazzi E... ho preso le stack Capiamo, winnable Guarda... abbiamo un po' gridato ma... Io un po' speravo nel flashing di Leona Però non ha Glacial Augment in realtà Quindi penso vada bene così Ciao Ania Stack Scopium Ah, ma io non ho Aerie, allora non è ward Se avessi avuto Aerie sarebbe stato... ok per me Invece senza Aerie alla fine prendo troppo poche stack Per... renderlo un buon trade Mannagina Vabbè Almeno abbiamo un'informazione su Kindred che ha startato top Siccome era... era late Quindi per forza che cosa ha startato blue buff Potrebbe fare blue e invadermi siccome ero bassa di vita Quindi diremmo... Tipo wardarci red dopo aver fatto questo campo E giocarcela safe Anche se abbiamo una ward utile Che è quella che ha messo nel river... Way Che ci dà l'info del... L'eventuale jump di Kindred Quindi forse non ci serve a wardare Actually Andiamo bisogno di wardare C'è un metodo per schippare con la ward In realtà c'è un metodo per schippare con la ward Però dovrebbe essere fortunato a farlo Dovrebbe essere veramente attenta Quindi facciamo affidamento sulla sua mancanza di attenzione Ok dai ci diremmo a essere Perfetto Ciao a tutti quanti boys come state? Che tempo fa da me? Ma ti dirò da me si sta bene Cioè non fa freddo Freschetto fuori ma... In realtà manco tanto Niente di che Niente di che La bot puscia Ma quella wave è enorme staccata Potrebbero invadermi Potrebbero invadermi Quindi ora mettiamo una ward difensiva Stanno venendo a invadermi sicuro E palline Possiamo raccontare qualcosa A questo individuo losco Guys They are drolling by the way Cioè questi ci invadono Pensando di poter fare quello che vogliono Nella nostra cazza di jungle Stupidi Stupidi È come se io mi facessi catturare fuori posizione Come se io fossi distratto Come se non dovessi tryhardare Grazie quiz Benvenuto Grazie del supporto Oh ma dobbiamo fare qualcosa per Natale Dobbiamo fare tipo una tombola Dai Facciamo una tombola Non l'ho mai fatta L'ho sempre pensato Ma dobbiamo iniziare a organizzare un po' di cose ragazzi Facciamo la tombola Basta Note XL Non siamo stupidi Sì Non ho gridato Note XL Abbiamo rispettato gli avversari che invadevano per non suicidarsi Dai ora organizziamo Ora organizziamo Quante stack abbiamo preso Un quantitativo abbastanza patetico Ma lo accettiamo Va bene così Anche perché non ho preso l'assist su Kindred Che ha flashato via E mi sono beccato il tè di trash Che con il gaccio alla venti ha rallentato E quindi niente Ci sono arrivato Sedge Mid Com'è? Chilling è abbastanza E il problema di andare a bot è che dobbiamo pussare trash per sta lanterna Schifosa maledetta Ah scemo Ah scemo Hai un po' sbagliato Adesso abbiamo la bot frizzata per sempre Keep it Prozen Bene 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 Abbiamo anche coniugato bene i verbi credo E il documento è perché non dovete poter giocare in lec poter entrare negli XL a frainteso Quanto ci hai pensato Verre che sta cacata Stupido Non c'è altro Note italiano studiato Qua già Già vedo un sacco di più eh Su questo Su questo game ragazzi Tra l'altro vi dirò pure un'altra informazione Se King Red non è stupida C'è in base i Raptor Cioè guarda che game knowledge Oh Hai visto Hai visto Hai visto Hai visto che è game knowledge E io qua capiamo Il problema in realtà è il counter gank L'unico problema è il counter gank qua Ma se lui ti passiamo nel big chilling Stiamo Aspetta Ciao Nina Ciao Lady Buongiorno anche a te Caffè Eh non sarebbe Grande a parte quelli sono i grug Vabbè Intendevo la top side jungle Senti Cioè intendevo both Raptor and Krugs Cioè Sì Raptor and Krugs Non prendermi in giro Ok Come se fossi uno sproveduto Uno stupido Mannagina Il mio amico Tenkov Romania Bel flash Amma mia ragazzi Amma mia che ci ho voluto abbattere Quest'atros Mamma mia Un po' rischiosetto Un po' rischiosetto Diciamo Eh perdono la stack Peccato Non ci posso fare niente A meno che King Red Non è qua Ma non dovrebbe Se mi dai un secondo Prendo La cura del cosino Qua E ci sono Capo Troppo presto Non è cooldown La hard griffata Ah Pensava Ah bro Ma just wait Three seconds Ed è morto Ma perché devi giocarla così E io potevo arrivare prima Però Like Molto sad sta roba Molto 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 sad Vabbè Peccato 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 E Amine È andata in maniera tragica Anche se era una potenziale free kill E il game era over con quell'uccisione Però I guess shit happens Che dobbiamo fare ragazzi Cioè la mia call era più safe sicuramente Capito Quindi io preferivo farla a modo mio Posso gankarti top straight Però abbiamo un problema Cioè quell'atrox potrebbe avere ulti up E se quell'atrox ha ulti up Siccome tu sei fatto rastera con un cane Potrebbe vincere dove uno Va bene L'abbiamo gankato al momento giusto I guess abbiamo rimediato la top Abbiamo quasi preso la trasformazione Qua gli diamo una mano a push Rest a wave E tanto adrox hanno tp Quindi The faster the better E vorrei rubarmi il blu di kindred Ma con questo gank Cioè con questo gank che ho fatto Dovrei essere leggermente off tempo Vediamo se riusciamo lo stesso Cioè La cosa peggiore che può succedere È che regalo il campo a kindred Eh sì E perdo tempo Quindi non è Oh shit Non è che sia poi così grave È arrivata pure Nine Tails È arrivata Eh qua gli avversari hanno angolo per Free Herald Se lo startano straight Perché atrox è first Prende il push Arriva la move a quanto pare Comunque abbiamo sbagliato un po' di cosette Questo game in realtà Già le possiamo annotare Abbiamo sbagliato un po' di cosette Cioè che poi in realtà Non erano necessariamente bad 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 Va bene parliamo dopo Ne parliamo direi Veri sarri sono all'era Ciao 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 Guarda siccome ormai abbiamo investito in tre risorse top Ne investiamo un altro po' anche perché sono molto vicino alla forma E atrox hanno air ex ante air up Quindi il tizio dovrebbe essere al 100% morto Perché non sta acisando kindred Ma anche in quel caso in realtà dovrebbe essere chiripo Ok Nice E adesso abbiamo la trasformazione Andiamoci nei base Lì si prende una placca Kindred dovrebbe essere qua pronta a invadermi Forse lei non poteva lasciare una ward lì Prendiamo scarpe Ci prendiamo trasformazione Andiamo bot Oggi che è in supporto A quanto pare bro Ci arrivano gli assist Ok Kindred è lì Era ancora distante Nice Ok possiamo full clearare bozza E giocare per drago 2.30 E ci dovremmo essere Sì comunque la roba che abbiamo fatto a botterli Ci ha sicuramente svoltato la partita Ma in realtà è quello di cui parlavo prima Cioè nel senso che l'errore era quello alla fine Cioè giocando a topside Potevamo snubolare pure quella Però avendo fackato poi abbiamo un po' rovinato tutto Però di base magari siccome avevamo la bot fiddata Potevamo tranquillamente Sticcare di più botte E continuare a giocare addosso a quella Cioè per quella lane che era così fiddata Vado rosso perché ho il conqueror Quindi tanto vale andare red Su blue fa schifo Poi ho sbloccato anche prima questa Era un po' il mio plan era Proprio perché Valorum è sbagliato ovviamente Samira Ying Direi Va bene Beh Che dire che dire Sembriamo in controllo Sembriamo Siamo presi la ulti diari Che non è male Guarda se avessi avuto il flash Avrei fatto flash in qua Kindred dovrebbero umare mid Anche trash Hello Ciao Andiamo verso topside C'è il dragon 50 Ma quell'atro Sembra cattivissimo Sembra Ciao Lerio Ciao anche a te Come stai? Beh fammi questa pazza ulti capo Spingilo Ah So bad Uff Però per il resto abbiamo tutta bene Il problema è che non mi sono curato con la mia R Managina Ah ma Non ha le cose Calcolate da entrare tu No ma Ma lo so che C'è l'intervento di stampina Non è che devi seccarti Cioè figuriamoci se io mi si prendo a fare qualcosa Qua saremmo Saremmo con Non lo so Con i documenti Con il Ecco Con il documento di cui parlava prima il signor no Come sempre Però non l'hai scammato da entrare tu Però non l'hai scammato da internet Se non la gioco Se non la gioco bene ci uccide Aiuto Mi scared Molto importante La spittare l'herald Perché mi da la stack Tra 8 secondi Le statistiche All'altro Le calcola Ah beh Certo Certo Make sense Sono un pollo Lo potevo uccidere Ma sono stato lento Sono stato Vediamo se tengo Brumenia Sorry brother Potrei avermi Misplayato La nuova schedule Comincio sempre Ma è diverso Che mi pare E finisco quando mi va Blah Allora ragazzi Sotto non scrivete Blah maledetto E la nuova schedule In realtà No non è questa Sono state Mannaggia Non lo voglio nemmeno dire E comunque no In realtà No in realtà No dovrei attaccare un po' prima Solo che In queste giornate Abbiamo scivolato Ho due terzi Le morti del team Blah Che game sfortunato Allora ragazzi Ma in effetti Siamo 3 a 21 Vabbè Che dire di questo game Allora che dire Sembra Sembra kind of over Oh Arriva solo shutdown Do they believe La death participation La death participation Va assolutamente inserita Ma non è una statistica Che si concentra Sui good points Vabbè Però possiamo dire Che tipo a questo punto Cioè anche se dovessimo Peggiorare un po' Le nostre stats Sarebbe ok Perché tanto Il game è imperdibile Beh Nel game è imperdibile Non è importante Mantenere il focus Nel game è imperdibile Volevo solo tirare l'ultimato Però il tizio ha flashato Fastidioso Sei Sto abbassando la media Il documento Mi giudica Ho capito Ma Ma non vale mica Cioè Ho perso pure il primo drago Ho perso Ma no Ma l'avrei fatto Su un Ma l'avrei fatto Su un Sei seccata Ma non si può vivere così Ma non si può vivere così Una vita distenti Io già 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 Devo pensare Vabbè Giù di caso Tutti pronti Guarda È una vergogna Abbiamo Stapatato a botti Dalle nove code Oddio È tutta Il bad key di Aver Colpa di Leona Guarda Il bad key di Aver Colpa di Leona Che ha tirato Non ha riuscito a fare Cioè non ha fatto la cincc Un compito aveva La cincc Solo un compito aveva Fare la cincc con la R e la Q E invece manco quello E chi ci ha rimesso? Il key di A? Io Non mi ha outplayato niente ragazzi La potevo giocare un po' meglio Ma non mi ha outplayato niente La mia Leona Che non ha fatto R Qui insieme Ah tra l'altro Potrei aver sbagliato una cosa Steffi A tal proposito Ho cancellato il titolo Per sbaglio Non volevo cancellare il titolo Ma ho cancellato il titolo Prima cosa Seconda cosa Ho messo una nota a destra Però volevo Scriver Vabbè Andiamo avanti Andiamo avanti Ma il drago Abbiamo preso noi Molto bene C'è anche l'herald Chi l'ha preso il primo herald? Ma il primo herald E stava preso sto game Ah gli avversari Però quella volta Non era colpa mia Mi ricordo Mi ricordo Mi ricordo La mid prior La top prior Refall Sì 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 Io ho qualcosa Fare delle note Troppo efficiente È pazzesco Salve salve sexy Oggi 100% fundamentals No cap 100% fundamentals E asa mira Non rompere Scatoline Dai Ci siamo scammati Un flash Andiamo a fare l'herald Andiamo a fare Gli objectives Quelli per cui viviamo I nostri fundamentals Ho scritto una nota Che volevo Mmm Beh non lo so Scriverci note generali Qualcosa Ora ci proverò a fare Che modo di salutare La chat sessista Non so di cosa Tu stia parlando Vorrei Anche la mia Rivincita in arena Ragazzi Parlando del più Del meno Mentre finiamo Questa partita Che ormai È al 100% vinta Vorrei Analizzare Un attimino La situazione Di ieri Abbiamo perso L'arena Oggi Chiamerò Un player Ancora più bravo Di Mysterious Per cercare Di vincerne una Ma non mi piace Il fatto Questo tizio Si refulla Puntualmente È so disgusting Non è che riesco A scammare Oh what? Ma la mia Dove più Non è dato Assurdo Let's go Teamwork Xanteing Into FF Of Today FF Non lo so Ninetales Voglio dire Hai giocato Una discreta Partitari Però Voglio dire Il surrender Quando è la bot 0706 05 37 No objectives 6 torri Indietro Io forse lo farei Così giusto per dire Così così per dire Cioè va bene Essere positivi Va bene Arrendersi Va bene Il mental Ma delle volte Va bene anche Surrendare Honor Samira New Pretty Dawn Ha fatto un discreto lavoro Sì È assurdo 100% We rate Ragazzi L'abbiamo detto L'abbiamo fatto Vai Alessandro Allora Stefania Vado Sì Segniamo il documento Carriato Ma cosa segniamo Carriato Cosa segniamo Carriato A parte il fatto Che il game L'abbiamo vinto Con due azioni Botti Partite da me Partite da me Entrambe Entrambe Vorrei dire Chiamate da me Poi Ognuno Vede quello Che vuole Vedere Ragazzi Allora Declino Declino Ce la fa Declino Declino Devo compilare Non ci dobbiamo Distrare Pensiamo alle cose Buone Quindi Kane Rackayne Però posso dire Servirebbe un po' Di efficienza in più Ma ci sono anche i secondi Ma posso dire che i secondi Non servono a niente Cosa sarebbero i secondi Cancelliamo sta cosa Cosa significa Questo Questo affare Capo Cosa significa Questo affare Devo scrivere Il champion Amico Devo scrivere qua No No Aspetta Vabbè Chidià Facile Provi scrivere Chidià Pensavo meglio Ah Vision score Dove si vede Il vision score Che statistica Non è utile Il vision score Eh TK cos'è Perché se no Non si calcola Si scrivi Chi di A Si sta calcolando Tutto Funziona tutta Alla perfezione Sembra Total kill Ah Total kill Ma della mia squadra Beh Direi si Dai Carino Abbiamo preso Un herald Abbiamo preso Un drago Abbiamo preso Zero baron Tilt Zero Tilt uno Ma non c'è No tilt Perché il minimo Uno 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 lo consideriamo No flame No tilt No flame Note Cancelliamo immediatamente Git good Perché Non è Non è adeguato Non credo ci sia Carriato Ma non è vero Questo è stato Carriato Non è vero Questo è stato Carriato Scriviamo No vabbè Lasciamo uno Lasciamo uno Poi il colore Mi piace abbastanza Note Samira Carry No qua non ci mettiamo No ragazzi L'ambiente Signalare Play Scriviamo Play True bot Va bene Direi che va bene Così Direi che va bene Così